bentornati in diretta buongiorno weekend sono le 10 e 33 e continuate a scrivere al 3 4 2 6 2 7 5 7 1 7 il vostro podio di sanremo e mi raccomando scrivete soltanto a questo numero non possiamo rispondere le vostre chiamate è l'ora del caffè di fare colazione quindi prendo giusto un caffè con vediamo insieme con chi eh chissà perché buongiorno fino a quartù sfumeggiante è lui la voce è lui è proprio lui che non era sfumeggiante ma sfumeggiante era una crasi soltanto però i migliori sanno questa cosa almeno sanno tutti perché è uscita varie volte questa notizia su questa sfumeggiante sfumeggiante buongiorno pino grazie per essere qui ma grazie a voi che mi avete invitato faccio anche colazione è certo il problema è uno che tu non bevi caffè però faccio anche il digiuno intermittente quindi addirittura sì alle 4 mangerò oggi forse no niente quindi né caffè né cornetto però forse rompo il digiuno questo cornettino mi tenta molto quindi però la domanda la devo fare perché buongiorno weekend giusto un caffè questa rubrica inizia sempre con la stessa domanda buongiorno pino quartulo benvenuto buongiorno weekend e lei che caffè si sente ma riesce a rispondere a questa domanda pur non bevendoli rinforzato con cui son buca dentro ma allora ti piace il caffè no però vedo so che insomma io se mi devo come dire accumulare a un caffè mi sento un po rinforzato ok ok non so da cosa però da me stesso dalla vita da te stesso e in questo momento devo essere molto rinforzato perché stiamo facendo uno spettacolo che ha bisogno di rinforzi sì 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 adesso ne ne parliamo e invece se fossi un cornetto nutella marmellata sfoglia vegano la marmellata al bicocca vegano no però mi piace molto per tutti i semetti e molto integrale e quindi cose integrali mi piacciono ieri stavo a dolo in un bar e ho visto il cornetto vegano ma pieno di semetti di cose integrali e con la marmellata l'ho preso e quindi da queste risposte possiamo capire che pieno quartulo è rinforzato ma mi piace i semetti quindi ogni tanto qualcosa nella vita di contaminato così di piccolo è dietavico anche qualcosa del passato molto semplice gusti semplici appunto non con quei tempi burrosi no carichi di cioccolate semplici e molto digeribili ecco però per apprezzare la semplicità bisogna forse anche vivere una vita più intensa sei ritornato alla semplicità sei ritornata alle origini a queste cose un po più tranquille oppure no sei sempre in un vulcano ma no penso che comunque pur facendo molte cose è sempre rimasto semplice poi non so cosa significa essere semplice certo fa l'attore però mi sento una persona semplice anche come attore cerco sempre di riportare un po a me stesso i personaggi che faccio e quindi variando sempre tantissimo perché fatto il barbone poi fai un professore di filosofia quindi fai le cose assolutamente contrarie ma la la semplicità proprio nel rimettere un po te stesso dentro questi personaggi in modo da renderli più vicini al pubblico possibile faccio sempre la domanda sulle origini del proprio mestiere perché in effetti è facile vedere un attore che che arriva che ha avuto la sua carriera che che realizza quel sogno ma quel sogno quando è iniziato quando hai deciso di fare l'attore ma da sempre faceva già all'asilo e scappavo già nel teatro le suore si disperavano a civita vecchia si disperavano poi hanno capito che andavo là era la tana e lì stavo sul palco mi piaceva molto questa cosa non so spiegare perché come un bambino gioca col pallone o un altro canta o disegna a me piace andare sul teatro anche perché da piccolo mi portarono all'operetta a montecatini dove ci stava una compagnia fantastica c'era il via calderoni allora banfi c'era il balletto le ballerine nude c'era i copricapezzolo questo mi era un po' entesasmato c'era l'orchestra in buca facevano le passerelle facevano ridere cantavano questo è bellissimo quindi per me poi l'operetta che era un po come dire una forma di spettacolo completa è stata sempre un po vagamente un modello e quando poi proietti ha fatto la sua scuola in cui per la prima volta gli attori studiavano canto danza che oggi sembra una cosa normale ma allora nel 79 eccolo Gigi non non si faceva quindi ho fatto questa scuola in parallelo poi all'accademia dove anche lì poi ho fatto schermo come regista e quindi ho studiato varie cose e da lì poi ho continuato senza aver deciso ancora se faccio regista o l'attore e l'architetto invece lo fai come dire un fio pagato alla famiglia perché mio padre è stato ingegnere mi ha detto prima ti laurei come spesso e poi fai quello che ti pare e quindi si è presa una laurea in architettura che era già però molto finalizzata allo spettacolo perché ho fatto un progetto di un teatro ecco come tesi di laurea ho fatto storia del teatro scenografia con venire colosanti trenta e lode quindi insomma ho fatto già facevo già teatro quando facevo architettura insomma e poi insomma continuato così è una cosa che mi piace lavorare in questo ambito non mi pesa quindi lo faccio molto volentieri mi sembra quasi un gioco sempre sempre un gioco non ci sono stati periodi difficili per cui ti sei detto mamma mia forse l'architetto è veramente la cosa migliore allora quello penso tutti i giorni penso sempre perché ho fatto questo perché lavorando così tanto in un qualsiasi ambito avrei guadagnato sicuramente di più perché è sempre più difficile sempre più in crisi tutto però devo dire che ecco mi gratifica e quindi questo qui mi basta e va bene così e poi non mi posso lamentare non ho avuto periodi di crisi nel senso che essendo architetto non ho mai aspettato che il lavoro mi arrivasse cosa che purtroppo capita a molte persone che fanno gli attori no aspettano la propria agenzia che gli arrivi la proposta e magari non arriva e quindi io ho formato prima una compagnia mia con altri giovani attori che facevano con me l'accademia e poi ho sempre mi sono sempre inventato gli spettacoli anche quello che sto facendo adesso è uno spettacolo che io produco e che ho portato in scena con la regia di fabrizio coniglio ma è che una cosa che ho deciso io quindi ecco non sono non ho avuto mai crisi perché io mi invento il lavoro e trovo il modo di realizzarlo un aspetto forse è questo il più grande insegnamento che si possa dare ai giovani di adesso che che vogliono iniziare sì è un insegnamento che mi ha dato gigi proietti ma anche aldo trionfo in accademia che era un altro grande regista dicevano a scuola ci si sceglie si fa gruppo i più bravi quelli con cui ci si trova meglio e con quelli fai una compagnia fai dei cortometraggi scrivi le cose e ci lavori insieme perché bisogna creare un gruppo e anche trovare un posto dove dove magari esibirsi trovare un teatro trovare un garage trovare una casa che sia un po il polo il polo di base dove ci si incontra dove si progetta e si fanno le cose e così ho fatto con i miei amici e con altri ritornare a quella foto di gruppo della scuola di proietti perché proprio mentre selezionavo il tantissimo materiale che c'è su di voi e su di te in effetti li guardavo e dicevo intanto questa è particolare perché è a Civitavecchia se non sbaglio giusto in una serata fortemente voluta da te eccezionale eccezionale in senso unica eccezionale in senso un'eccezione una cosa che inspiegabilmente non si è più fatta da nessun'altra parte pur avendo avuto un grandissimo successo si chiamava Gigi è tutta colpa tua nel senso se facciamo gli attori un po ironici e c'erano tutti gli allievi che in qualche modo si erano affermati in capo professionale nei vari corsi del laboratorio per cui c'era Brignano, c'era Insinna, c'era Lano Schese c'era Massimo Vermiuto, c'era Iannuzzo, Patrizia Loreti, Laganà e tutti insieme abbiamo fatto questa serata nel teatro comunale di Civitavecchia io ero direttore artistico e finivamo verso le due di notte perché ognuno si esibiva proietti pure, aveva tutto il suo repertorio, alle una e mezza di notte le due facevano bis, bis e mi dicevano è tardi, poi andavamo a cena e finiamo verso le tre e vediamo l'alba tre giorni di alba abbiamo avuto che meraviglia sì, una cosa molto bella ci siamo sempre un po' tutti chiesti perché non siamo riusciti a farlo d'altra parte però non è stato semplice perché poi tutti gli attori hanno molti impegni quindi a giugno ho trovato il periodo in cui gli attori hanno un momento di interstizio tra l'estate e la stagione invernale, li ho convinti tutti, abbiamo fatto queste tre serate bellissime in cui siamo stati tutti insieme ripensare a quei momenti adesso che Gigi purtroppo non c'è più, come ti fa sentire anche perché per te veramente era un amico, è stato poi inizialmente un maestro intanto quando l'ho fatto il laboratorio noi avevamo 22 anni, noi avevamo 39 quindi non era un anziano insegnante, era quasi in coetaneo, un po' più grande era come un cugino più grande, già un genio, già affermatissimo, già era proietti però lui, guarda nonostante la sua grande simpatia noi avevamo tutti però un po' di soggezione e quando si avvicinava a Gigi stavamo sempre attenti a quello che gli dicevi perché comunque era sì socievole, meravigliosamente simpatico però anche maestro anche un po' padre e quindi dovevamo stare un po' attenti a quello che facevamo però quello che ci ha insegnato è stato il divertimento il divertimento nel fare questo lavoro è anche una grande serietà quindi può sembrare una cosa contraria, essere seri e divertiti però è così, una grande professionalità, un grande stile perché Gigi aveva molto stile, era molto elegante, si muoveva molto bene e ci insegnava appunto quanto fosse importante lo stile anche nell'ambito della comicità, della commedia, degli spettacoli divertenti io ho fatto anche tre spettacoli come protagonista con la Regge di Proietti qui facciamo le prove del dramma della gelosia poi abbiamo fatto Stregata dalla luna e poi abbiamo fatto insieme con la Regge di Proietti quella del piano di sopra, Brancaccio quando lui riprese Brancaccio dal 2000 fino al 2007 meraviglioso avere un maestro, la fortuna di avere un maestro così anche testimone di nozze esatto tra l'altro, quindi poi proprio amico vero è diventato veramente parte della tua famiglia grande insegnamento come hai detto prima, quello di fare, fare, fare non soltanto, e questo me l'hai insegnato anche tu perché anche io ho avuto un grande maestro cioè Pino Quartullo sei una delle mie fiori all'occhiello uno degli esemplari più riusciti non a caso sei qua e tieni banco alla grande grazie, però è vero quello che mi hai detto non puoi fare soltanto l'attrice una volta mi hai detto e in effetti me lo ricordo sempre quasi ogni giorno forse un po' troppo, però in effetti guardando il tuo esempio è vero perché tu hai iniziato, hai fatto la scuola Silvio D'Amico come regista la scuola di Gigi Proietti come attore poi hai iniziato a scrivere anche e addirittura a cortometraggi uno, il primo, ha avuto addirittura una nomination all'Oscar quindi porta bene avere questo multitasking essere multitasking sì, queste sai sono cose spontanee che ti vengono quando noi facevamo la scuola di Proietti c'era un autore si chiama Mazzucco e ci stimolava a scrivere tutti scrivavamo e chiaramente si vedeva già da quello che noi creavamo chi aveva più tendenza anche a scrittura perché sono dote innate poi certo uno perfeziona però lo scrivere per esempio si sviluppa molto facendolo cioè all'inizio uno ha un po' di soggezioni dice ma come io scrivo una commedia se tu cominci a scrivere scopri che poi è una cosa con la quale ci si esercita e che viene quasi naturale e spontanea e si migliora facendolo quindi anche quando stavamo con Proietti al laboratorio io scrivevo gli sketch io, Paolo Tiziana Cruciani anche Iannuzzo è stato poi autore di se stesso ho scritto tantissime cose abbiamo fatto uno spettacolo tutto scritto da lui quindi se hai già questo talento poi scopri che scrivendo scopri sempre più idee cose che vengono da te stesso e che neanche pensavi di avere perché scrivendo mentre scrivi ti vengono delle idee se non ci provi questa cosa non può nascere mai e quindi dopo aver fatto Exit grazie a Monica Vitti che ho avuto insegnanti in Accademia e lei è stata detonatore della mia carriera cinematografica poi perché io avendo fatto Accademia al cinema per me era una cosa un po' lontana un po' tecnica, un po' difficile perché c'è il cinema ecco facendo quel cortometraggio grazie a lei con Rai e avendo poi dei premi incredibili tra cui la nomination all'Oscar mi sono avvicinato al cinema e ho cominciato a scrivere delle storie ho fatto quattro film lungometraggie adesso ne ho scritti altri spero a breve di poter riprendere anche nell'ambito cinematografico e fare qualcosa di mio mi piacerebbe quattro film quando eravamo repressi ho avuto l'onore di poter interpretare una piccola parte le donne non vogliono più le faremo tanto male e storie d'amore con i crampi tutti i temi d'avanguardia le donne non vogliono più si parla di gravidanze di donne che si è un raccontato un po' un ribaltamento della figura maschile rispetto a quella femminile per cui per esempio una donna non vogliono più di solito noi sappiamo che sono sempre le donne che vogliono un figlio e debbano incastrare l'uomo io invece mi sono divertito scrivere una commedia in cui era l'uomo che cercava di incastrare le donne di mettere in cinta una perché voleva un figlio a tutti i costi e non trovava nessuna donna che volesse fare un figlio per vari motivi perché ci sono anche tanti motivi molto come dire giusti anche per non farli oggi per tanti motivi il mondo in cui stiamo andando incontro che non si sa cosa succederà le crisi economiche eccetera quindi però lui era ostinatamente desideroso di questo figlio e cominciò a provare con varie donne finché faceva un accordo con una coppia di lesbiche per farne due uno per loro e uno per me che nel 93 era abbastanza insolito andavo anche in una banca delle nascite cercando un ovulo anche delle cose un po' esagerate era un po' impazzito questo personaggio e quindi in quel film ho raccontato il maschio che vuole il figlio che poi andava molto di moda in quegli anni negli anni 90 all'inizio degli anni 90 si vedevano molte immagini di uomini nudi col bambino in braccio non so se voi siete molto giovani se lo ricordate però c'erano le cartoline sulle riviste questi uomini che avevano il bambino la mano dell'uomo con la mano del bambino si era un po' riscoperto il valore della paternità e credo che come c'è l'orologio biologico nelle donne anche nell'uomo credo che intorno ai 33 35 c'è questo bisogno di fare un figlio che è un po' innato dal nostro patrimonio genetico e anche a me mi è venuta questa cosa e pensavo di averla esorcizzata facendo il film invece poi la natura mi ha premiato e mi ha dato una Emma Emma stupenda anche lei ammazza ma siete pronti su tutti su qualsiasi fronte ma Pino ma con chi hai a che fare secondo te cioè sei qua da Martina Catto a Buongiorno Weekend Lorenzo Beatrice Andrea ma dico Emma e appare mia figlia esatto fantastico Emma straordinaria che come hai preso questa scelta questa sua scelta di voler intraprendere la carriera il mondo dello spettacolo noi non l'abbiamo forzata né chiaramente l'abbiamo dissuosa diciamo che chiaramente si è trovata circondata ebbè tra la madre Elena Sofia Ricci io la nonna che era scenografa il nonno che era regista il nuovo marito di Elena Sofia che era un musicista e faceva colonne sonore diciamo che poverina ha avuto altri input stavano facendo se era gioielliera o che ne so la farmacista esatto però avrebbe potuto farlo ma non l'ha fatto si è laureata e poi sta cominciando a fare l'attrice ma come il padre ha capito che bisognava inventarsi qualcosa e ora sta curando bei ricordi che è una rassegna che fanno nella sede di Scomodo e fa la direttrice artistica di queste iniziative di giovani che fanno reading musica cantano molto interessante brava brava Emma poi straordinaria anche lei interprete perché è veramente molto brava non dovrei dire che il padre chiaramente e vabbè ogni scarafone è bella mamma sua però è veramente bravo un bello scarafone un bello scarafone arriviamo al presente Pino perché in effetti tra pochissimo andrà in scena insieme ad una grande attrice Roberta Giarrusso all'off-off 28 motivi per innamorarsi io ne avrei altre tanti per non innamorare è un po' come il discorso dell'avere un figlio esatto perché ci si deve innamorare però perché 28 bastano 28 motivi per innamorarsi sì sì certo penso che sono pure troppi sono troppi dici allora questo titolo diciamo che più 28 motivi sono 28 domande ok diciamo che io come potete dedurre dal mio stato barba i capelli sono un uomo che si è lasciato un po' andare perché è stato separato dalla sua donna diciamo che è stato costretto a andarsene di casa ma non perché ha fatto qualcosa di brutto ma perché ci è successo è una cosa abbastanza spiacevole una cosa molto drammatica e quindi quando a volte ci sono dei traumi all'interno della coppia queste coppie poi si separano soltanto che io non mi sono ancora arreso e quindi chi verrà in teatro vedrà che io sto sono un uomo in pieno trasloco in un trasloco perenne con ancora i scatoloni ancora non ha accettato di essere stato lasciato e quindi lei vorrebbe divorziare da me e viene a casa mia una sera per farmi firmare le carte del divorzio e io le chiedo le obbligo la obbligo quasi a sottoporsi a un test un test che è veramente che esiste di Arthur Aaron che è stato pubblicato da New York Times e che l'autrice americana Jennifer Lane da questo questionario ha scritto questo testo teatrale che poi Fabrizio Coniglio l'ho letto l'ho adattato e ha fatto la regia e quindi l'abbiamo riportato in Italia per una storia nostra e quindi è la storia di io che cerco di riconquistare lei e queste domande sono 28 e quindi rispondendo a queste domande una coppia sia per due persone che non si conoscono ma anche per due che già hanno un rapporto magari in crisi fare queste domande sono utili per capire se hanno veramente delle cose in comune se hanno gli elementi ancora per stare insieme quindi noi potremmo fornire poi agli spettatori a fine spettacolo non so se vi conviene se è il caso però potrebbe essere interessante se no altro leggerle e capire a cosa si va incontro chi viene a teatro non le legge perché le vede in diretta sul palco e io e lei diciamo che rispondendo a queste domande si aprono cassetti segreti nostri delle cose del passato delle cose della nostra vita di come ci siamo innamorati e quindi è una specie montagne russe di sentimenti di commozione di divertimento di battute un testo molto bello e molto interessante che porteremo prima abbiamo già girato un po' l'Italia verremo a Civitavecchia al teatro comunale appunto già citato il sabato 17 e il 18 di febbraio e poi al teatro Off Off di Roma dal 20 al 25 febbraio e quindi il tema dell'amore è un po' come nelle canzoni è sempre presente ma soprattutto mai banale perché in effetti appunto come hai detto tu una montagna russa di emozioni e poi è tutto estremamente personale come viviamo tutto questo e quindi è interessante capire come un'autrice affronti una tematica del genere è bello vedere come purtroppo contrariamente a quanto succede molto spesso quando dei rapporti di coppie si interrompono l'uomo spesso non accetta questo e passa alle maniere forti quando non addirittura omicidi e altre cose terribili non accetta di essere lasciato qua questo personaggio mio lo fa come dire in maniera molto sana perché cerca per tutta la durata dello spettacolo di esprimere tutto il suo amore a lei è molto bello vedere un uomo così innamorato io non ho mai visto una storia in cui un uomo è così innamorato non è mai successo non solo di interpretare ma di vedere un uomo così innamorato così tanto innamorato la cosa bella è che anche lei lo ama ancora per questo incidente che gli è successo la sua presenza la riporta sempre a questa cosa per cui lei non vuole più vederlo vorrebbe avere un'altra vita senza di lui per dimenticare quello che è successo e quindi vedi questa lotta fra questi due che si mandano queste scariche elettriche di conflitto di appunto di scontro ma anche di grande amore di stima reciproca sono due mediocre due mediocre o perlomeno pensano di esserlo nessuno pensa che l'altro è mediocre ma ognuno lo pensa di se stesso e quindi il fatto di anche compensarsi stimarsi è molto importante all'interno di una coppia perché non sempre poi due sono dei geni sono persone normali che devono accettare il fatto di essere dei scrittori o direttori d'ufficio normali quella semplicità che dicevamo prima esatto esiste anche quello uno spettacolo vero quindi dal 20 al 25 febbraio 28 motivi per innamorarsi all'off of theater con Roberta Gianrusso e Pino Quartullo Pino grazie immensamente per questo regalo grazie a voi grazie davvero sei un premio della vita grazie Pino uno insegna se tu insegni solo quando insegni capisci quanto è importante che i tuoi allievi ti ringrazino siano grati di quello che hai fatto e tu non solo lo dimostri ma sei un esempio che tanto attenzione tanto amore dispiegato nell'insegnare i rudimenti dell'arte scenica hanno dato questo meraviglioso risultato esagerato grazie grazie perché è bravissima come attrice noi studiamo Porzia e Bruto da Giulio Cesare la Porzia di Martina era fantastica era bravissima vabbè signora mia che violini che senti i violini grazie ancora Pino Quartullo grazie davvero immensamente grazie anche a voi e alla squadra Andrea Lorenzo Beatrice Spider-Man che è qui con noi a Leggia anche nello studio di Buongiorno Weekend grazie a tutti gli ospiti intervenuti l'appuntamento e grazie anche a voi ovviamente per aver scritto buona finale di Sanremo l'appuntamento è ovviamente domani con tante occhiaie alle ore 9 sempre in diretta qui a Buongiorno Weekend qui su Cusano Italia TV ciao buon fine buon sabato buon weekend ciao 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 ciao